Ciao a tutti, sono Stefano e oggi vorrei parlarvi di uno dei metodi per trombone più interessanti che io abbia mai utilizzato. È un libro che il mio maestro di conservatorio mi ha fatto utilizzare tantissimo, diciamo che mi ha fatto sudare 7, 8, anche 10 camice. Sto parlando dello Steiner, edito da Edizio Musica di Budapest, Steiner Ferenc. È un libro molto interessante con studi giornalieri per trombone in questa storica copertina verdone. Allora, all'inizio di questo libro possiamo trovare una nota dell'autore che spiega molto bene alcuni aspetti e soprattutto come utilizzare questo metodo. Aprendo e arrivando ai primi esercizi possiamo trovare un'intera pagina e mezza di soli esercizi per l'utilizzo del bocchino, quindi esercizi proprio pensati solo per questo strumento. Pensavo di farli tutti a turno e così, in modo tale che voi possiate avere un po' di materiale per lo studio del bocchino e soprattutto un metodo di riferimento che in questo caso è appunto lo Steiner. Buon lavoro a tutti!